Ragazzi noi siamo i Lightsail, il gruppo nasce tre anni fa e siamo una triple band dei Pergem, il gruppo è composto da cinque elementi, abbiamo Dario la chitarra, Nino che è momentaneamente assente come seconda chitarra, poi abbiamo Vincenzo al basso, Danilo è la nostra voce e io alla batteria. Stasera presentiamo un brano in acustico per questa selezione della Vita Rock, speriamo di ricevere tanti like e buon ascolto ragazzi, alla prossima! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!